Un nuovo servizio per il caro istinto, un servizio di umanità messo a disposizione in particolare nel comune di Viadana dalla famiglia Roffia che ha creato quella che è la prima casa funeraria sul territorio. La nuova struttura su due piani ospita tre salette. La costruzione è iniziata nel novembre 2021 e giusto mercoledì ha ottenuto le ultime autorizzazioni per poter operare. Un passaggio chiave dopo tanti mesi di attesa, spesi anche lottando contro il caro prezzi e coi ritardi delle consegne che hanno messo in crisi come si sa il mercato edilizio. Peraltro la famiglia Roffia ha fatto lavorare soprattutto aziende del territorio, dalla euro costruzione di Viadana per il ramo edile alla Salf sempre di Viadana per infissi e opere in ferro, alla ditta Rossini di Casal Maggiore per gli impianti elettrici, alla Buttarelli di Rivarolo del Re per quelli idraulici, mentre il geometra Pirotti di Casal Maggiore ha seguito il progetto. Insomma tutto a chilometro zero. Perché una casa funeraria è importante? Perché sin qui l'unica possibilità se non si riusciva a portare la Salma a casa nei giorni che passano dal decesso all'estremo saluto era far riferimento all'obitorio dell'ospedale di Opò che però per alcuni viadanesi può risultare scomodo anche chilometricamente. Ora invece c'è un punto di riferimento in più con gli uffici delle onoranze funebri che si sono spostate in via San Francesco 34 cambiando dunque per pochi metri in realtà la storica sede della ditta Roffia. In questo modo l'intero servizio si trova in un unico luogo consentendo di avere un immediato confronto con i clienti. L'opera era sentita come una necessità dalla comunità di Viadani in particolare un servizio in più realizzato ovviamente nel pieno rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti sul tema e avendo ottenuto tutte le autorizzazioni del caso.